Buonasera e bentrovati all'appuntamento di oggi, giovedì 12 settembre. La giornata odierna è stata caratterizzata da una notizia per certi versi attesa, ovvero la BCE ha infatti tagliato i tassi dello 0,25%. A ciò si aggiunge il risico bancario che si è aperto dopo l'acquisto da parte di Unicredit del 9% di e-commerce bank. Inoltre, nell'ultimo trimestre, il numero degli occupati in Italia ha registrato un incremento pari allo 0,5% rispetto al trimestre precedente. Il tasso di occupazione sa al 62,2%, che è un record essendo il valore più alto mai registrato nelle serie storiche trimestrali. Parallelamente, il tasso di disoccupazione è sceso al 6,8%. E andiamo proprio a Piazza Affari, listino su cui, come è noto, i bancari hanno avuto una certa rilevanza oggi, per assistere al progresso del Fuzimib, che è salito dello 0,84%. Poco dopo l'apertura di Wall Street si era verificato un calo che ha portato l'indice sulla parità, ma poi c'è stato un ampio recupero. Sorride anche Francoforte con il DAX, che in questo caso arriva a ridosso del punto percentuale, mentre il suo valore oltrepassa i 18.500. New York, invece, ha vissuto un'apertura a dir poco tranquilla. In questo momento, sia Nasdaq che Dow Jones si stanno muovendo sulla parità senza particolari scossoni. Una menzione va anche al greggio, che come vediamo in questo grafico orario ha recuperato dagli ultimi giorni e si è riportato sui livelli di venerdì scorso. Lo vediamo qua sul finale. In evidenza il balzo a Piazza Affari del più 6,75% di Telecom, che si posiziona sulla pole dell'istino milanese dopo la promozione di Bank of America. Gli analisti hanno mantenuto la raccomandazione buy dopo la vendita di Netco. Dal grafico giornaliero di Telecom vediamo il recupero del passivo degli ultimi due mesi, proprio solo in questa ultima seduta. Così il titolo si allontana dal minimo a 0,1975, ma il massimo annuale registrato proprio a inizio anno, a 0,30, è ancora lontano. Buona intonazione sui bancari. In primis abbiamo Banco BPM, che sfiora il più 3, mentre si continua a parlare di Unicredit dopo la già menzionata acquisizione della partecipazione di Commerce Bank. Anche oggi il titolo bancario si trova in un'ottima forma e dopo aver toccato un massimo poco sotto ai 37,5% archivia più 2,88%. Superano i due punti di guadagno, Biper e Monte dei Paschi. La seduta è stata fiacca per lo più sulle utilities, ma i ribassi sono piuttosto contenuti, infatti solo ERA supera il punto e mezzo di passivo. Mentre ERG si attesta poco sotto al meno 1, SNAM archivia poco sopra a questa soglia e in fine ETERNA registra un meno 0,81%. Ma come vediamo dal grafico più ampio, a compressione 4 ore, il trend è comunque sempre da agosto impostato al rialzo. Nella lista dei peggiori di oggi troviamo anche di ASORIN. Tendenzialmente positiva la giornata della moneta unica, infatti l'euro-dollaro è in lento progresso dal mattino con un rialzo di qualche decimo di punto. Euro-Yen aveva avuto una battuta di arresto nel primo pomeriggio, ma poi ha saputo superare nelle ultime ore. Stabile il cross sulla sterlina. Detto ciò non mi resta che passare la parola al trader Sante Pellegrino. Ospite delle interviste di Traderlink di oggi, Sante Pellegrino, trader indipendente, per dare uno sguardo insieme ai mercati. A della parola. Ben ritrovata, Rossana. I mercati tentano un rimbalzo dopo i minimi affrontati nelle giornate scorse. C'è stato ieri il dato sull'inflazione americana che è positiva e da lì proprio il Nasdaq tentano un rimbalzo dei minimi di 18.500, ma trova resistenza a 19.300 punti. Il Fuzzi Mib a 33.500 punti è costretto a superarlo, altrimenti si torna indietro verso i 32.500. Stesso per il DAX, 18.600, ma dobbiamo superare la resistenza dei 18.750. Settimana carica di appuntamenti, c'è la Banca Centrale Europea e sicuramente ci sarà una trasformazione. Nell'economia dei prossimi mesi, anche in vista delle elezioni americane. Di questo ne parleremo il 27 settembre 2024 al corso di Trading Live a Bari. Ci saranno tanti ospiti, aspetto tutti voi. Buon trading a tutti. Perfetto, Sante. Io ti ringrazio della panoramica. Con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. Con quest'ultimo contributo termina l'appuntamento di oggi. Grazie per l'avvisione. Un saluto e un arrivederci a domani.